Il PD avrebbe qualcosa da dire con i vari decreti salva-ilva, parlo della credibilità nei confronti dei cittadini. I decreti salva-ilva del PD sono praticamente nell'ottica di salvare lo stabilimento gli stessi che oggi si faranno, che si stanno facendo oggi. Ma erano, possiamo andare anche indietro, perché quando sento parlare oggi di accordo di programma, mi vengono in mente i famosi accordi di programma e gli atti d'intesa di fittiana memoria, allora quando Raffaele Fitto era presidente della regione. Forse Gianmarco tu eri ancora con i calzoncini in fasce. Però io queste cose me le ricordo, io mi ricordo e lo dico con affetto, il primo, il mio approccio giornalistico correva l'anno 2001 e io missi, e lì iniziò la mia carriera giornalistica, missi in contrapposizione Rossana Di Bello e Raffaele Fitto, perché c'era un problema di fondi per le famiglie bisognose, per i fitti dei locali, i fitti delle casse. Fitto non ti rispondeva, no? I contributi, mi ricordo qualcosa. No, perché erano i contributi per i caloni di locazione. Allora, Di Bello diceva, io non posso darli perché dalla regione non li ho ricevuti. E la regione diceva, no, ma io li ho dati. Quel giorno, nel 2000, primo febbraio 2001, all'ospedale Moscati c'era l'inaugurazione del primo acceleratore lineare, io me li trovai lì davanti. Fitto, era di bene. E dice, scusate, ma fatemi avviso che state vicini. Uno dice che i fondi li ha dati, l'altro dice che non li ha ricevuti, fatemi capire, mettetevi d'accordo, visto che oltretutto appartenete allo stesso schieramento politico, a Forza Italia. E da lì nacque la mia storia. Non so se avrei fatto bene a fare l'avvocato o a fare quello che faccio. Andiamo un attimo in pubblicità. Luigi, resta con noi perché devo farti vedere un altro contributo storico, diciamo così. Quindi veramente un minuto di pubblicità. Torniamo tra poco. Torno da Luigi Abate qui in studio. Ti chiedo che cosa ti aspetti e che cosa anche ti auguri un po' per il futuro della città. Mi auguro intanto come il nome del mio movimento e non è un voler far coincidere così le cose ipocritamente, utilitaristicamente. Una Taranto senza ilva. Perché questo stabilimento, oltre a essere un disastro, oltre a comportare, e lo dice purtroppo, lo dicono le risultanze mediche, i numeri atroci, tumori e morti, ma oltretutto dal punto di vista proprio finanziario, dal punto di vista al collasso, è in prefallimento. Pensare che su una platea di 10.000 dipendenti ne abbiamo circa 5.000 cassi integrati. Se noi pensiamo ai dipendenti dell'appalto che non ricevono lo stipendio da mesi, Beh, ditemi, io faccio mie le parole del primario di oncologia pediatrica e di oncoematologia pediatrica e pediatria, il quale è stato molto ma molto chiaro, ha detto, scusatemi ma io vengo da Bari, sono trapiantato chiaramente a Taranto, ma mi dite dov'è la ricchezza che produce l'ex silva? Io vedo miseria, tumori e morte. Lo dice una persona che non fa politica, che peraltro è un osservatore privilegiato a Taranto, proprio perché non è tarantino e quindi vede, E allora io dico, quando poi qualcuno mi dice, ma se chiude l'ex silva dove andate a mangiare? Io rispondo, scusate ma oggi con l'ex silva vivente, tra virgolette, o moribonda, oggi chi versa nel disagio, nel profondo disagio economico, dove va a mangiare? E allora. E certo. Solo per chiusura totale, non solo dell'aria calda, solo per smantellare e bonificare, previa riqualificazione, vi sarebbero minimo 30 anni di lavoro. Nessuno vuole mandare a casa i lavoratori, io voglio unire questa città, voglio unire questa città nel nome del diritto alla salute e alla dignità del lavoratore e del cittadino. Anzi, far ritornare a lavorare perché di fatto sono a casa. Pensi a quelli da esse. Anche contro la loro volontà, no? Perché noi l'abbiamo anche ascoltato, ci hanno detto, attenzione, fateci lavorare piuttosto che darci soltanto questo contributo stando a casa. Grazie a Luigi Abbato.